Vediamo di completare una piccola parte della congiura di Catilina, mancano alcuni capitoli e oggi vediamo il ventisettesimo. Sono i preparativi di Catilina a Roma, la sua congiura che poi finì nel sangue, in una vera e propria carneficina, una congiura che venne bloccata dal console Cicerone. Vediamo un po'. Dunque, vedete che il primo verbo che troviamo è dimisit, mandò invio. E naturalmente qui abbiamo dei accusativi, dei complementi oggetti. Manlium, Septimium Quendam, Camertem, Caium Iulium, da non confondere con gli altri accusativi. Quindi, quelli retti da In, in Eam, Partem, Fesulas, in Agrum Picenum, in Apuliam. Lasciamo dopo, per dopo, Agliumaglio. Quindi, pertanto, inviò Caiomaglio a Fiesole. Fiesole si trova nella Toscana, Letruria di allora. Letruria di allora era una regione più ampia della Toscana, comprendeva anche la parte settentrionale del Lazio, la parte occidentale dell'Umbria, la parte meridionale della Liguria. Perciò, Sallustio ci scrive così, pertanto, inviò Caiomaglio a Fiesole e in quella parte dell'Etruria, dove appunto si trovava Fiesole. Un certo settimino, Camerte, nell'Agro Piceno, Caiu Giulio, in Puglia. Inoltre, questa è una regola che è presente nelle mie dispense, Aglium, Aglio. A volte troviamo questa formula che io ho spiegato dicendo di raddoppiarle come se ci fosse scritto Aglium, Aglio, Aglium, Aglio, due volte. Lo devo tradurre due volte. Innanzitutto, questo Aglio è un avverbio di luogo. Vi ricordate che gli avverbi di luogo, che derivano da dei pronomi come quo, eo, illo, quando termini in o, ci danno l'avverbio di moto a luogo, quando termini in a, l'avverbio di moto per luogo. Quindi questo Aglio è un avverbio di moto a luogo, che dobbiamo tradurre due volte. Inoltre, uno in un luogo, l'altro in un altro. Ricordatevi sempre che in latino a volte capita che ci sia unus e poi aglius. A volte c'è aglius, aglius, alter, alter, quando ce ne sono solamente due. In italiano, invece, dobbiamo iniziare, non possiamo dire inoltre, l'altro nell'altro e l'altro nell'altro. Il primo deve essere espresso con uno. Inoltre, uno in un luogo, l'altro in un altro. Ripeto, Aglio è un avverbio di luogo. Aglium, invece, è un pronome. Ed è un accusativo assieme a tutti quegli altri accusativi che abbiamo già visto. Calium malium, septimium quennam camertem, calium julium, eccetera. E si aggiunge alium. Quem et ubi credebat. Chi e dove credeva, abbiamo poi un'infinitiva, con fuori infinito futuro, che sarebbe stato per sé opportuno. Questo quem, anche questo, è un accusativo che si aggiunge a tutti gli altri accusativi retti da dimisit. Andiamo avanti. Qui abbiamo poi quelle variazio che possono creare delle difficoltà. Perché, come voi vedete, qui abbiamo il dimisit, il perfetto. Quindi, il racconto storico viene giustamente presentato con il perfetto storico. Qui, invece, nella seconda frase, Sallustio utilizza l'infinito storico. Per poi passare nella terza frase a utilizzare il presente storico. Noi, in italiano, anche se ormai queste regole sono rispettate per modo di dire, dovremmo adeguarci, e così spiegavo nella formulazione degli svolgimenti dei temi, dovremmo adeguarci ad adottare un tempo. Quindi, abbiamo iniziato con il passatore remoto, continuiamo con il passatore remoto. Oppure, per indicare un'azione continuativa nel passato, utilizziamo l'imperfetto. Normalmente, l'infinito storico latino viene tradotto con l'imperfetto italiano. L'imperfetto italiano non indica un'azione passata, ma un'azione passata che continua nel passato. ieri, oppure contemporanea, vuole indicare un'azione contemporanea o un'altra già passata, no? Pioveva di rotto, mi ascoltava con attenzione. Un'azione che continua, perdura, in un tempo passato viene utilizzata all'imperfetto. Quindi, normalmente, l'infinito storico presente viene tradotto in italiano con l'imperfetto. Quindi abbiamo, vedete, li ho messi tutti in crassetto, perché abbiamo una proposizione principale, tutte le altre sono coordinate alla principale. Anche se è un infinito, perché non è apparentemente una forma implicita, ma in realtà è una forma esplicita, è un imperfetto. Interi a Roma multa simbolo moliri, consulio di un istinto a tendere, parare incendi, opportuno allo carmati su minimus obsideri, eccetera, eccetera. Allora, frattanto, questo è un genitivo locativo, a Roma, Muliri, preparava contemporaneamente molte cose. E qui c'è la spiegazione, due punti. Quindi, o si inizia di nuovo con una proposizione principale, oppure è la prima coordinata, la principale, come volete. Forse qui sarebbe meglio ricominciare, perché è la spiegazione, in ogni modo, sono qui squiglie queste. Allora, tendeva a guati ai consoli, preparava incendi, presidiava luoghi strategici, loca opportuna, ominibus armadis, convu, omini armati. Lui stesso era col pugnale, lui stesso era con la freccia, è una metonimia, no? Lui stesso era in armi. Iteva, allo stesso tempo, comandava ad altri, ricordatevi che Iubere, a legge l'accusativo, li esortava, utti, utti è una forma arcaica, sta per ut. Attenzione, sempre che utti può creare dei problemi, perché potrebbe anche essere l'infinito, di uto, rutte e di sumuti, e qui, dato che abbiamo una serie di infiniti, uno potrebbe dire, ma, questo è un infinito, no? Qui, a valore di congiunzione finale, usertava, affinché fossero sempre pronti e attenti. Quindi, ut, una finale. Festinares, dies, attenzione che questo notis, non sta per, sta per nottes, è un tempo continuato, era sveglio, si muoveva, di giorno e di notte, vigilare, era sempre pronto, era sempre allerta, e poi noi sappiamo che a Catelina, così almeno ci è presentato, da San Lustio, aveva una grande forza, non solo nell'animo, ma anche nel corpo, né mostrava fatica, per le veglie, e per la fatica, e per il lavoro, e per l'impegno. Andiamo avanti, e terminiamo questo, il ventisettesimo capitolo. Qui abbiamo, una sintassi un pochettino più complessa, e vediamo di leggere quindi, il tutto. Postremo, Ubi multa agitanti nel procedit, Rursus, Ubi sconsigli, smutano un officere. Allora, Ubi, Nihil procedit, chiaramente, o è temporale, o è locativa, o è relativa, agitanti, multi, participio, quindi andiamo a vedere, dov'è la proposizione principale. O stremo, rursus, in tempesta, andiamo a vedere, convo, cat, eccolo qui. Non c'è nessuna particella, che possa pensare, che ci possa far pensare, che questa sia una subordinata. Quindi, poi, c'è, et, ibi, et, ibi, c'è una coordinazione, quindi abbiamo una coordinata. Alla fine, di nuovo, nel pieno della notte, a notte improvvisa, vedete che qui abbiamo il presente storico, ma noi traduciamo col passato remoto, per adattarci alla traduzione, che abbiamo proposto precedentemente. Convocò i capi della congiura, presso Marco Porcioleca, e lì, docet multa, docet, vuol dire insegnare, ma può voler dire anche informare. Normalmente, informare, cerzioni, facere, aliquemdi, aliquare, questa è la formula, ma a volte, viene utilizzato anche docere. Li informa di molte cose. Questus, quer or quere, restus un queri deponente, che vuol dire lamentarsi, voi sapete che il participio passato dei deponenti può anche essere considerato come un participio presente. Quindi, qui vedete voi, io preferirei tradurlo con un genundio semplice, lamentandosi della loro inerzia. Volendo si potrebbe anche tradurre dopo essersi lamentato della loro inerzia, essendosi lamentato della loro inerzia. vedete voi. Allora, ricominciamo dal capo. Abbiamo dimenticato, scusa, abbiamo dimenticato, dimenticato, ubi procedit nil, come nulla procedit derivava, determinava o derivava a lui che metteva in movimento molte cose. Allora, ricominciamo, postremo, infine, come nulla procedeva, nulla derivava, nulla arrivava a lui che stava muovendo, io ho aggiunto uno stare fraseologico, stava muovendo molte cose, di nuovo nella notte profonda, improvvisamente, convocò i capi della congiura presso Marco Porcio Leca e lì lamentandosi della loro inerzia docet multa, l'informa di molte cose, è in accusativo perché docere regge l'accusativo. E di che cosa l'informa? C'è una serie di oggettive se premisisse dunque cupere proficisci e poi dopo il punte virgola abbiamo ancora officere quindi un docet che ha come esplicative queste oggettive che a loro volta hanno altre reggenze. Cominciamo con la prima. Se premisisse che lui aveva mandato avanti Manlio a dea moltitudine a quella moltitudine che aveva preparato vedete che in questo caso l'oggettiva regge una relativa che aveva preparato a prendere le armi questa è una finale ad e l'accusativo del gerundio gerundivo non capienda ma capiunda la U caratteristica di Sallustio che ci rivela un arcaismo poi sempre retto da premisisse allo stesso modo aveva mandato avanti altri in altri luoghi opportuni di nuovo la stessa oggettiva dopo aver retto la relativa che regge a sua volta una finale la stessa oggettiva regge direttamente una relativa finale impropria che dessero facessero l'inizio della guerra che dessero l'inizio della guerra poi riprendiamo le oggettive rette da docet l'informa prima che aveva mandato avanti Mangio l'informa se che lui desiderava partire per l'esercito dunque ad esercito ma anche questa è una metonimia il concreto al posto dell'astratto per la guerra se prima avesse fatto fuori Cicerone attenzione che qui ci troviamo di fronte a un periodo ipotetico un periodo ipotetico dipendente con l'apodosi all'infinito infatti qui abbiamo l'apodosi che fa Cuber e Proficisci retta da docet in questo caso la protasi segue la consecuzio temporum da come si presenta visto che non c'è nell'urum esse nell'urum fuisse qui siamo perché stiamo riportando il pensiero di Caterina in un periodo ipotetico dipendente con l'apodosi dell'infinito della realtà come mai però con un verbo all'infinito presente abbiamo un più che perfetto congiuntivo dovrebbe esserci un perfetto congiuntivo no perché la consecuzio temporum sappiamo come funziona se c'è un infinito presente questo infinito presente viene bypassato bisogna andare a cercare il verbo che lo regge che è docet ma anche docet è presente sì però è un presente storico quindi come presente storico può essere interpretato come tempo principale o come tempo storico qui è stato interpretato come un tempo storico per cui abbiamo nell'anteriorità un più che perfetto congiuntivo lui dice io desidero partire ma prima cosa devo fare prima devo far fuori Cicerone se prima avesse fatto fuori Cicerone qui continua con un'altra oggettiva sempre retta dal docet che lui cioè Cicerone ostacolava molto sui sconsigli i suoi progetti cioè i progetti di Catinina avesse 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 avesse